La rassegna del Festival Gaber ha proposto nella sua terza serata la proiezione di Io, Noi e Gaber, il primo docufilm sulla vita dell'artista, scritto e diretto da Riccardo Milani, vincitore del nastro d'argento come miglior documentario 2024. Girato tra Milano e Viareggio nei luoghi della vita di Giorgio Gaber, Io, Noi e Gaber è il ritratto più che mai vivo e incisivo del Signor G, al centro di una delle pagine più preziose della storia culturale del nostro paese. Un viaggio esclusivo che attraversa tutte le fasi della sua carriera artistica, dai primissimi esordi nei locali di Milano al rock con Adriano Celentano, dal sodalizio artistico e surreale con l'amico Iannacci, agli iconici duetti con Mina e alle canzoni con Maria Monti. Sullo sfondo, come il locus a menus che tutto muove e in cui tutto converge, si staglia il Teatro Lirico di Milano, simbolo del vicendevole amore tra Gaber e il pubblico milanese e che oggi porta al suo nome Teatro Lirico Giorgio Gaber. Attraverso la voce di familiari e amici, Riccardo Milani traccia un ritratto intimo appassionato di Gaber che include ad un tempo la sua storia personale, attraverso le parole della figlia Dalia e delle persone storicamente a lui più vicine, e una sinfonia di voci di colleghi e artisti che lo hanno vissuto ed amato.